USB Taranto aveva chiesto un incontro al commissario prefettizio del comune di Taranto per la vicenda Nial Mail, varie situazioni lesivi a vostro dire nei confronti dei lavoratori culminati in un licenziamento. Siamo con Francesco Marchese di USB Lavoro Privato. Oggi avete avuto un incontro con il segretario generale del comune di Taranto proprio in merito ai rapporti con la Nial Mail. Ricordiamo che il comune di Taranto è appunto un committente pubblico rispetto all'azienda. Ecco, com'è andato questo incontro? L'incontro è andato bene, siamo soddisfatti. Oggi abbiamo avuto finalmente la percezione che il comune di Taranto nella persona del dottor De Carlo, il segretario generale, il comune di Taranto ha preso atto della vastità, della complessità, dei problemi, delle irregolarità, delle violazioni di norme, di legge, di contratto di cui la Nial Mail si macchia ormai da anni. L'incontro è andato bene perché abbiamo avuto modo di rappresentare in maniera analitica tutte le irregolarità che avevamo più volte messo per iscritto. Oggi finalmente il comune ci dice di attivarsi, che si attiverà nel corso delle prossime ore. Proprio poco fa abbiamo avuto un ulteriore contatto telefonico. Il dottor De Carlo, il segretario generale, ha interessato la dottoressa Ruocco, il subcommissario, la quale a sua volta ci ha comunicato di aver interessato il commissario Cardellicchio rispetto alle tante problematiche che riguardano i lavoratori e le lavoratrici della Nial Mail che ricordo sono in sciopero già dal 14 dicembre e fino a tutto il 14 gennaio prossimo proprio per rivendicare i propri diritti. Un'avvertenza che non è più soltanto sindacale, che è nata per la rivendicazione di diritti di fonte contrattuale e legale, di diritti sindacali, ma che poi ha preso la piega della rappresaglia perché l'unica iniziativa aziendale all'indomani della sindacalizzazione dei lavoratori è stata la cieca rappresaglia e ridorsione dei lavoratori con sospensioni disciplinari e da ultimo il licenziamento di una lavoratrice. Un licenziamento infondato, immotivato, agito, brandito nei confronti della lavoratrice proprio utilizzando pretestuosamente e in maniera infondata il buon nome del Comune di Taranto che quindi rientra in questa vicenda in questa avvertenza non solo come committente pubblico della Nial Mail ma anche come istituzione pubblica a tutela della dignità e dei diritti di una cittadina, in questo caso di una lavoratrice della Nial Mail.